Sono partite oggi in tutta la Puglia le vaccinazioni per i circa 160.000 cittadini, ovvero tanta che si stanno prenotando sulle piattaforme CUP, PharmaCUP e sul sito Puglia Salute. Dopo il V-Day per gli operatori scolastici, celebrato tra sabato e lunedì, è dunque ufficialmente cominciata la fase 2 della campagna vaccinale anti-Covid. Le somministrazioni si stanno svolgendo a buon ritmo su tutti i territori. Nella ASL di Bari, durante la prima giornata di avvio della campagna vaccinale destinata agli oltreottantenni, sono state inoculate 1.528 dosi. Nella ASL BAT, dopo la vaccinazione a domicilio della 87enne Andrise Suor Vittoria, è stata avviata nel pomeriggio la campagna presso il Dipartimento di Prevenzione ASL di Andria e presso il Palassi di Trani, messo a disposizione dall'amministrazione comunale. Nella campagna sono coinvolti tutti gli uffici igiene dei dieci comuni, dove ogni mezz'ora si avvicenderanno cinque cittadini per consentire le operazioni di registrazione, somministrazione e osservazione. Solo nel pomeriggio odierno sono stati vaccinati 540 cittadini della provincia di Barletta, Andria Trani. 440 sono i vaccinati della provincia di Brindisi. A Foggia, invece, il primo vaccinato dell'intera zona è stato Pietro Cimarrusti, 95enne di Cerignola. Nella ASL di Taranto sono stati circa 1.000 gli ultraottantenni vaccinati oggi. In questa prima settimana saranno vaccinati quasi 5.000 anziani. Infine, Lecce, provincia nella quale sono state vaccinate 1.400 persone. Le operazioni del capoluogo salentino sono state seguite dall'assessore regionale alla sanità Pierluigi Loparco, che ha fatto il punto della situazione. Abbiamo avuto una forte adesione, abbiamo subito aperto le agende, con un imbuto, con un freno. Cioè, noi potremmo vaccinare di più, ma i vaccini che abbiamo nei nostri frigoriferi sono questi. Per cui abbiamo dovuto bloccare comunque le prenotazioni, questo su base regionale, e devo dire la verità, un po' in tutta Italia siamo nella stessa condizione. Cioè, in tutta Italia abbiamo delle strutture che potrebbero vaccinare di più, potrebbero vaccinare più velocemente, ma i vaccini che abbiamo a disposizione sono ancora purtroppo pochi. Noi speriamo che nelle prossime settimane si possa aumentare quello che è il flusso di vaccini in arrivo, tanto che molti anziani hanno ricevuto una prenotazione anche a diverse settimane. Il messaggio che noi diamo a tutte queste persone è di avere fiducia, perché man mano che arrivano i vaccini noi rifaremo le prenotazioni, le ristruttureremo. Quindi se uno ha avuto una prenotazione, diciamo, a fine marzo o inizio aprile, c'è una buona probabilità che se nel frattempo dovessimo ricevere dei nuovi lotti di vaccino, queste vaccinazioni saranno anticipate.